Ciao, sono Edoardo, vengo dalla Francia, io sono Pepper, dell'Argentina, e abbiamo fatto un film qui in Potenza, Buonavisione. La fotografia, non è tutto, ma è una forma di chiamare la forma che senti, senti le persone molto rapidamente, vedo le persone nascite, vedo le persone nascite, vedo le persone nascite nascite, e è a volte molto imbarassante, ma la vita è molto fluida, e a volte la foto ha disperato, e non c'è nulla cosa che puoi fare, non puoi dire la persona, oh, por favor, smile again, do that gesture again, life is once, forever. Posso prendere una foto? Si, con piacere. Dove è questo posto? Come posso venire qui? Può prendere la scala mobile di fronte a Gran Caffè, ci sono gli ascensori, e si porta la stazione centrale, sotto la stazione c'è quel ponte, quello è nato negli anni 70, è un ponte fondamentale per l'ingresso della città di Potenza. No, more on the right. No, you're right. I can't get over the fence. No, 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 come again. Take one step to your left. Ok, no, don't look at me. Look for, no! No, it's worse, come, come. It's impossible, I can't do it. Non ti vuoi provare? Non. Non, non. Ci siamo venuti tutto questo. Non voglio. E se? E se? Questa è voi che si vota insieme? Grazie a tutti. Grazie a tutti.